Ora da 3 Barbour, va lungo, rimbalzo dei pesaresi ma poi lo perdono in qualche modo, contropiede, ma via! Grande stoppato di Barbour! Per perdere questa gara, comunque hanno fatto sicuramente la loro bella figura! Schiaccia, Barbour, parità, c'è time out, 10 secondi per chiudere questa partita. Questa schiacciata mi ricorda un po' Ickman. Ne parliamo dopo, linea alla regia. Grazie a tutti!